Buongiorno ragazzi e ragazze, benvenuti nella mia rubrica, la rubrica della Pro Coach Anita per Excellent Style, la rivista fitness fatta apposta per voi. La potete trovare sia in carta stampata che online. Basta andare sul sito www.excellentstyle.it e vi consiglio di usufruire del mio buono sconto, il mio codice sconto ANNITA PRO COACH per avere appunto lo sconto di 5 euro sugli abbonamenti, quindi approfittate. Bene, oggi vi voglio parlare di alcuni esercizi che io ritengo possono aiutare a raggiungere quasi ogni obiettivo nel fitness, anche perché siamo ovunque bombardati continuamente da migliaia di esercizi tra cui poter scegliere. Ciò non significa che questa ovviamente sia una cosa negativa, ma se dobbiamo ricercare degli esercizi che siano davvero efficaci, allora la scelta diventa più limitata. Bene, in questa categoria ci sono ben 8 esercizi che sono davvero fantastici. Oggi vi parlerò di un esercizio in particolare e poi man mano negli altri video vi illustrerò gli altri esercizi. Allora, potete ovviamente inserirli nelle vostre routine di allenamento e vi posso assicurare che avrete degli ottimi risultati, ovviamente per il raggiungimento del vostro obiettivo nel fitness. Allora, iniziamo con l'esercizio che io amo alla follia e le mie ragazze lo sanno perché glielo inserisco in qualsiasi loro protocollo ed è lo stacco sumo con il bilanciere. Ovviamente questa è una variante dello stacco da terra. Non va soltanto ad allenare gambe e glutei, ma anche i sinergici e gli stabilizzatori. Naturalmente per i principianti si dovrà partire con carichi leggeri imparando ovviamente soprattutto la postura che è fondamentale per evitare qualsiasi infortunio. Quindi lo stacco sumo con il bilanciere come si esegue? Si esegue con i piedi distanziati leggermente, maggiormente rispetto alla larghezza delle spalle e con i piedi e le gambe che sono ruotati leggermente in fuori, così da aumentare il convergimento degli adottori sul blanca. Quindi schiena contratta con la sua naturale curvatura, testa diritta e con il mento rivolto verso il basso, petto in fuori e afferrate il bilanciere. Il sollevamento segue una traiettoria rettilinea, quindi va tenuto vicino al corpo sfiorando le tiglie. La partenza è lenta ma si accelera in fase terminale. Quindi spalle e glutei si sollevano contemporaneamente e spremete i glutei nel punto alto e abbassate il bilanciere lentamente lungo la stessa linea e poi ripetete le altre ripetizioni. Per chi fosse ovviamente alle prime armi può anche iniziare con lo stacco sumo eseguito con il kettlebell e poi man mano che impara ovviamente la tecnica può procedere con la versione col bilanciere. Bene, per oggi è tutto e vi ricordo di utilizzare sempre il mio codice sconto per gli abbonamenti e continuate a mandarmi le vostre domande sull'allenamento al femminile tramite mail a info-excellentstyle.it vi risponderò dalla rubrica sulla rivista o tramite video. Volevo ricordare anche che Excellent Style si occupa anche di seminari e tra questi c'è quello appunto della Forza 4.0 con Carlo D'Aralda che è uno dei guru più importanti del powerlifting, della Forza ed è il 21 marzo a Figline Valdarno presso il centro tecnico sportivo NBFA Quindi per qualsiasi informazione scrivete o andate direttamente sul sito www.excellentstyle.it Per oggi è tutto, buon San Valentino e alla prossima, un bacio! Grazie a tutti!